Pare che il fenomeno dell'acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa derivi da una falda attiva all'interno del canale intubato e non proviene quindi da acqua di fogna. È quanto ha riferito la società Salerno Sistemi dopo un'altra richiesta di sopralluogo fatta dal consigliere comunale Giampaolo Lambiase di Salerno di Tutti che ha ricevuto la relazione scritta dell'ispezione avvenuta alla presenza della Polizia Municipale dell'ARPAC. La relazione a firma del direttore generale di Salerno Energia Holding Matteo Picardi e dell'ingegnere Mariano Nappa responsabile del segmento fognatura e depurazione spiega che l'ispezione del tratto finale del torrente tombato Santa Teresa non essendo in gestione della Salerno Sistemi conferma comunque che le acque rosse non provengono dalla fognatura ma da infiltrazioni del terreno che si mettono nel tratto finale del torrente Santa Teresa. Il fenomeno è visibile dal tombino in corrispondenza dell'aiuola verde adiacente al marciapiede di lungomare Trieste. D'ora in poi in ogni caso verrà controllato periodicamente l'eventuale riformarsi di tale materiale rossastro per cercare di individuare i punti di provenienza del materiale. Installata inoltre in corrispondenza del chiosco prospiciente alla spiaggia adiacente al torrente un'idonea stazione di sollevamento costituita da una pompa attiva e da una riserva che capiti le eventuali fuoriuscite di acque rossastre e le convoi di infognatura. Fino ad oggi è stato scarso l'impegno e l'attività dell'amministrazione comunale di Salerno, scrive lo consigliere d'opposizione Gianpaolo Lambiase che ribadisce che è dovere dell'amministrazione invece mettere rapidamente in essere tutte le attività utili ad eliminare il problema, individuarne le cause e garantire la piena e sicura fruibilità della spiaggia di Santa Teresa. Ho sollecitato un sopralluogo dei tecnici di Salerno Sistemi per l'ennesimo sversamento di acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa. Ho ricevuto l'altro ieri la relazione dell'esito dell'ispezione che hanno fatto ed i problemi sono vari. Prima di tutto credo che mi hanno assicurato lo sversamento non deriva d'acqua di fognatura ma da una falda attiva all'interno del canale intubato. E poi bisognerebbe fare urgentemente alcune azioni, indagare in modo approfondito le cause di questo fenomeno e mettere in funzione rapidamente una pompa di sollevamento nei pressi del chiosco della spiaggia di Santa Teresa per fare in modo che l'acqua rossa venga convogliata all'interno della rete fognaria comunale. Purtroppo a mio parere né l'amministrazione comunale né il sindaco hanno dimostrato attenzione ed interesse per questo problema che riguarda la salute dei cittadini e tra l'altro riguarda l'accesso sicuro, la fruibilità sicura della spiaggia libera più frequentata dai cittadini salernitani.